Il caso giudiziario che lanciò Cicerone sulla scena pubblica romana fu il processo contro Gaio Verre che era stato governatore della Sicilia dal 73 al 71 a.C. Cicerone che nel 75 era stato questore dell'isola e si era fatto apprezzare per la sua onestà e per il suo senso di giustizia fu ritenuto dai siciliani la persona adatta a cui affidare la propria difesa. Verre incarnava il prototipo del politico avido e corrotto il cui principale scopo era depredare i suoi amministrati ma era anche un esponente dell'oligarchia senatoria tornata al potere dopo la vittoria di Silla. La causa contro di lui assumeva quindi implicazioni politiche era un colpo sferrato allo strapotere dell'aristocrazia perciò gli aristocratici fecero quadrato attorno all'accusato e la difesa fu affidata al più famoso avvocato dell'epoca Quinto Ortenzio Ortalo. Nel processo per concussione contro Verre Cicerone assunse il ruolo di accusatore pubblico mentre Ortenzio quello di patronus o difensore di Verre. Cicerone adottò un'ardita strategia processuale basata sull'immediato interrogatorio dei testimoni. Non fece in tempo neppure a pronunciare tutte le orazioni preparate per le varie fasi del processo che l'imputato fuggì a Marsiglia ammettendo implicitamente la propria colpevolezza ed evitando così pene più gravi. Cicerone pubblicò poco dopo le orazioni del processo anche quelle non pronunciate. Sono le Verrine che assieme alle catilinarie e alle filippiche costituiscono il corpus dei discorsi più importanti tra i 58 che ci sono pervenuti. Le Verrine segnano un passaggio decisivo nella vicenda privata e pubblica dell'oratore poiché lo straordinario successo ottenuto contro Verre impresse una svolta determinante nella carriera forense e politica di Cicerone.